Come si può cambiare? Inoltre in questi momenti tiriamo fuori le nostre care e vecchie strategie, quelle che però in questo momento non funzionano, proprio perché la crisi a volte ci chiede di pensare a un livello diverso e quindi a trovare soluzioni nuove. In questi momenti ci conviene quindi fermarci un attimo e analizzare la situazione. Prima di tutto dobbiamo scindere le energie. Da una parte sì, dobbiamo gestire la crisi, ma dall'altra dobbiamo iniziare a spostare il focus dal problema alla soluzione. Quindi dobbiamo cercare di trovare il modo per cambiare e dare un po' di energie in quella direzione. Poi dobbiamo guardare con ottimismo alla crisi, che vuol dire guardare i punti che ci possono aiutare a fare il cambiamento. E poi ci conviene agire immediatamente, anche se non siamo ancora sicuri se la strategia funzionerà o meno. È meglio non rimanere nel problema, ma agire. Perché agire ci dà un nuovo punto di vista, nuove prospettive. Anche se sbagliamo, vediamo il mondo con occhi diversi, iniziamo a vedere la luce alla fine del tunnel, iniziamo a vedere che in realtà c'è la possibilità di cambiare, ci stiamo muovendo verso un'altra direzione e dobbiamo solo affinare la strategia per poter cambiare. Agire immediatamente ci permette di creare una nuova normalità, che non è la crisi, che è qualcosa che stiamo cambiando e quindi questo crea nuove energie, nuove idee e nuove relazioni con nuove persone. Dobbiamo ricordarci un'ultima cosa durante un cambiamento particolarmente complesso, cioè mantenere alta la motivazione. In questi momenti infatti è facile essere demotivati. Per mantenere alta la motivazione, semplifichiamo il percorso, non cerchiamo di cambiare troppo. Iniziamo con una parte, quando quella è cambiata andiamo avanti da un'altra parte. E poi diamoci dei traguardi intermedi. Sì, è vero, la visione di insieme è importante, però a volte la visione è talmente lontana e il cambiamento è talmente difficile che questo non ci motiva, anzi a volte ci potrebbe demotivare. Se ci diamo dei traguardi intermedi invece con delle ricompense, questo ci permette di festeggiare e di vedere che in effetti stiamo andando avanti, stiamo procedendo avanti e quindi stiamo uscendo dalla crisi verso il cambiamento.